Bene, eccoci qui Anna D'Auria, siamo nella sala stampa della Camera, parliamo di valutazione, valutazione della scuola primaria, c'è una volontà del Governo di cambiare le regole, di passare da una valutazione descrittiva a sintetica. D'Auria ci spiega perché non siete d'accordo. Lei innanzitutto ha un ruolo all'interno dell'MCE, vediamo un po' di presentarci e poi se ci può spiegare i motivi del vostro dissenso. Allora, io sono stata segretaria nazionale del Movimento di cooperazione educativa, siano ad aprile e attualmente ho la delega alle politiche scolastiche, quindi lavoro in collaborazione con la segreteria nazionale. Qui nella sala stampa della Camera ci sono dieci associazioni dei protagonisti della scuola, di quelli che abitano la scuola, un'associazione dei genitori, un'associazione di dirigenti, di professionali della scuola, il sindacato e siamo qui per chiedere al nostro Parlamento di non bloccare una riforma che impiede da soli tre anni. Questo per due motivi. Un motivo strettamente pedagogico perché l'ordinanza ministeriale 172 dopo l'abolizione dei voti ha tracciato un percorso per una valutazione formativa che ha una sua logica pedagogica e che è rivolta appunto a far sì che gli insegnanti possano avere spazi e strumenti per una valutazione di tipo formativo. Una valutazione cioè che possa servire ad autoregolare il processo di insegnamento-apprendimento perché l'ordinanza prevede dei passaggi che sono dall'individuazione degli obiettivi di apprendimento alla raccolta delle evidenze in relazione alle dimensioni dell'apprendimento che poi danno luogo ai livelli con la possibilità di una valutazione descrittivo-qualitativa più ampia. Passare da questo tipo di processo ad un giudizio sintetico, tra l'altro un giudizio sintetico che viene espresso con sufficiente e Valditara tra l'altro ha anche chiesto che venisse introdotto il gravemente insufficiente. Ha un valore pedagogico per noi assolutamente non giusto nella misura in cui è molto diverso dire a un bambino ad esempio di prima elementare al primo quadrimestre se è in via di acquisizione rispetto agli obiettivi di apprendimento che abbiamo fissato, dirlo a lui e dirlo ai suoi genitori, dal dirgli se è gravemente insufficiente. Un'ultimissima, proprio veramente 30 secondi. Voi oggi siete qui presenti assieme ad una serie di associazioni e organismi contrari. Qualora dovesse andare avanti l'emendamento, cosa avete in programma? Guardi, qualora dovesse andare avanti l'emendamento noi continuiamo il nostro lavoro di formazione e di accompagnamento degli insegnanti per costruire percorsi di valutazione formativa delle scuole che praticamente in quanto comunque le decisioni andranno a cadere unicamente sul momento certificativo. Quindi la cosa importante è continuare il nostro affiancamento a genitori e insegnanti della scuola provare a contaminare anche la scuola secondaria di primo e di secondo grado nella direzione di una valutazione formativa che è l'unico tipo di valutazione che ha legittimità costituzionale perché è rivolta a osservare il processo di apprendamento per poterlo migliorare e non si focalizza sul risultato per poter classificare nella classe chi sa e chi non sa. Non è questo il compito della scuola pubblica della Costituzione. Grazie, grazie per la disponibilità. Grazie a tutti.